La squadra sta bene, però abbiamo bisogno di staccare la spina un pochettino tutti. L'importante è che i ragazzi lavorino da soli a casa, perché quando riprenderemo le gerarchie verranno azzerate. Magari qualcuno che fino a questo momento ha fatto due, tre, cinque presenze si ritrova a titolare nella gara di Siena, perché non c'è il tempo di poter riportare in condizione quelli che non hanno fatto niente. Le settimane sono due in avvicinamento al derby di Siena e quindi dovranno essere particolarmente bravi a farsi trovare pronti e a farsi ritrovare già in buona condizione quando riprenderemo, perché ve lo ridico qui davanti a tutti, le gerarchie ritornano a zero per tutti. Questo poi l'hai già dimostrato anche in questa prima fase di campionato, perché spesso hai lanciato giocatori che non avevano ottenuto pochissime presenze. Tra l'altro con un Siena che viene da questa gestione scazzola, due vittori su due. Sì, sì, va bene. Ora loro hanno anche un'altra gara da recuperare, potrebbero essere tre su tre. Ma il Siena, dopo la gara di andata, è per me una delle squadre più forti che ci sono nel nostro campionato. Non dico a livello delle prime te, perché un po' per un insieme di motivi sono stati costruiti strada facendo, però è una squadra che al 100% entrerà dentro il play-off. È una squadra mista, ha dei giovani interessantissimi e dei vecchi giusti, ottimi come giocatori e come professionalità. E credo che sia solo ed esclusivamente questione di tempo. Noi spereremo di ritardarglielo un po' magari dal 22, però è una squadra che ha valori importanti e che sicuramente sarà nel lotto di quelli che parteciperanno agli spareggi per la promozione di Serie B. C'è pensato a cosa chiedere al direttore per il mercato? Sì, però ne parleremo dopo, certo. È un mediano, visto che si parla di Cenetti. No, ma non lo dico certo a voi. Lo devo dire al direttore, non lo devo mica dire a voi.